E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi sono molto con la voce alta visto che oggi vi devo spiegare qualcosa Riguarda il coronavirus Allora, uno Come voi sapete, quando è venuto il 2020 si è causato questo coronavirus Ora, io non so come sia successo, forse qualcuno di voi lo sa Però io non lo so Allora, qua spiegherò, farò una serie su questo coronavirus Allora, questo sarà il mio primo episodio sul coronavirus Allora, la prima cosa che bisogna fare, quella proprio importante È lavarci sempre le mani, dopo, prima, tutti i giorni Allora, come si deve fare? Allora, prima si prende il sapone E poi si fa Io farei prima così Sfrega, 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 sfrega Poi farei così Tipo così Poi Così Per sintonizzare, per sintonizzare proprio Dopo, dopo questo Io vi consiglio di fare così Consiglio di fare così Così, 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 così Tipo come se vorreste, tipo Un pezzo di carta lo vorreste Atrociliare, però così Ecco Così, 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 così 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 va meglio Adesso Poi Io farei tipo così Giusto per spremere un pochino Visto che almeno si deve fare Poi Vabbè, questo lo dovreste già sapere tutti Vabbè Mi asciacco le mani E io dovrei E io vorrei fare tipo così Lo stesso movimento Così, 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 così Poi Quando avete finito Ricordate Che dovete Asciugarvi le mani Con l'asciugamano Però Molto bene Dovete farlo benissimo Tipo Tipo Non le dovete lasciare bagnate Ma le dovete proprio asciugare Del tutto Poi, ok Saranno o caldo o freddo Dipende Poi da Da quale Acqua avete usato Quella calda o quella fredda E poi potete andare A mangiare O a riposare Se avete già mangiato Comunque Questo era il mio consiglio Per superare questo coronavirus Il video è durato un po' poco Però Almeno abbiamo capito Quella è una cosa importante Per superare questo coronavirus Comunque Grazie per aver visto Questo video Se volete Lasciate Like Iscrivetevi al canale Per avere Sempre Sempre Più Più video Che arriveranno In futuro E ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Ora però Vorrei dirvi Un'altra cosa Allora Se non avete visto I video di Ieri E l'altro ieri Li dovrete subito Andare a vedere Tutti Andate sul canale Si Il mio canale si chiama Iva Maglione Proprio come mi chiamo io Maglione Perché adoro Dossare i maglioni Comunque andate lì E trovate tutti i miei video Se non li trovate tutti Andate sul video Caricate Li troverete tutti Ok raga Ehm Credo che adesso Dovrei stoppare Però raga Ultima cosa Ehm Vi ringrazio tantissimo Che state sostenendo Il mio canale Solo da tre giorni Che è nato questo canale Sono già arrivati I sette iscritti E vi ringrazio Tanto Ehm Vabbè Grazie tanto Per aver visto Questo video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao